La Chiesa siciliana parte attiva nella società isolana che si interfaccia con le massime istituzioni regionali per interagire e costruire relazioni in conformità alla dottrina sociale della Chiesa per portare il Vangelo nella vita. L'avvio di un percorso propositivo con le istituzioni politiche regionali è stato al centro di un incontro avvenuto presso il seminario Vescovile di Caltanissetta fra il presidente della Cesi, Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti e i direttori di diversi uffici regionali della Segreteria Pastorale, nonché il suo direttore, Don Giuseppe Rabita, alla presenza dei componenti degli osservatori giuridico, legislativo e socio-politico delle Chiese di Sicilia, strumenti e risorse professionali di coordinamento politico e progettuale. Sin dal suo insediamento alla guida dei Vescovi siciliani, Monsignor Raspanti, Vescovo di Eceriale, si è proposto come obiettivo quello di avviare un dialogo propositivo con gli esponenti delle istituzioni regionali, Governo e Assemblea regionale siciliana. Ci siamo rienti oggi qui al seminario di Caltanissetta con alcuni uffici regionali della Conferenza Episcopale Siciliana, con l'osservatorio giuridico e con quello socio-politico, perché abbiamo cercato di diffondere e di informare loro circa una serie di contatti istituzionali con gli enti regionali civici che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere, proprio per illustrare le modalità, pensare, inventare le modalità attraverso le quali noi cattolici siciliani vogliamo contribuire, fermentare, essere protagonisti nello sviluppo della nostra isola anche per risollevarla da alcune sue contraddizioni e alcune sue difficoltà. Sono contento e ringrazio tutti coloro che sono venuti, tutti, nessuno escluso, perché si sono mostrati molto attenti e interessati e quindi potenzialmente adesso nella nuova sessione invernale con la Conferenza Episcopale Siciliana, cioè con i Vescovi, discuteremo, amplieremo in modo da portare questi impulsi che stiamo cercando di dare da tutte le parti della Chiesa Siciliana, trasferirlo a tutte le diocesi, a tutti gli uffici e via via cercare di prendere, intensificare i contatti con gli enti regionali, gli assessorati, l'Assemblea regionale, altre entità, fondazioni, per progettare, programmare e cercare di sviluppare davvero questa nostra terra. Andiamo verso il capire e prendere coscienza di come vogliamo essere, come vogliamo vivere da cattolici in questa isola, quale contributo vogliamo dare. Noi chiese in cammino in una terra che è anch'essa in cammino.